Sì, è vero, è importante che abbiamo vinto una partita tosta, ma abbiamo lavorato tantissimo quei ultimi dieci giorni, pure ieri abbiamo fatto palestra così i ragazzi erano stanchi, ma è importante che abbiamo vinto e puntiamo quelle partite a dicembre che arrivano contro Spandau, Brescia in campionato e poi anche il finale della Supercoppa.